allora ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono se sabine e faremo un gioco dove andremo a vedere la casa dei sims e prima di iniziare il video faccio sentire questa cosa qua figetino ballerino la 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 figetino ballerino la 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 facciamolo con le parti delle mani dice 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 la 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 va adesso si manda a casa di rock allora io entro da questa posta la direzione sappiamo ora qua ora qua buongiorno buongiorno ma figuriamoci che cazzo sta leggendo in questo video buongiorno è bello che è no guardami guarda tornato devi guardare il libro studia 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 i bambini studia 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 compoooo buongiorno di buongiorno buongiorno E' questo questo qua, sta vendendo il tuo, lo tommo, mando il telefono. Anzi no, ce ne sono in due. Sto facendo un po' i biavoli questo qua. Sata, se lo stai a girare. Allora fanno la sua chiesa, lo prendo il culo e sto. Ciao, ciao! 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 sui mostro bloccato 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 Sto facendo questo appone su di là Ragazzo Faccio un po' che dice il ballerino Guardiamo come viene Se viene bene Sono un gran Quigetino Ballerino Quigetino Ballerino Quigetino Ballerino Vabbè, torniamo indietro Dice che parte per un piaggio turistico Poi si fa tutto il villaggio turistico Dico bene Vabbè 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 Ciao No, bel cannellino Lo so che non può rispondere però No 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 Vabbè Avete visto come ha fatto il cane Vabbè Ogni volta che sono le persone Ci torno Guarda qua Guardate Vabbè 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 Grazie a tutti. 7G. Ma che ha la connessione 7G questo su internet? Va bene, andiamo avanti. Outwork ispense models of system serving, organ, androventy machine. Forse è capace...ah, devo provare la macchinetta. E lo fa diventare come una patroia dipendente patologica. Come lovers visit the local watering pool. Most time. Possiamo andare alla... La tavella. Qualche tavella è la tavella. Ma... Quale è? Stato B? Eh lo so... Bisogna dire, lui ha amamotto da Tato B. Intanto il che è stato B. Quinti Span. Span e me fu. Hun. non si interessa deve andare sul divano e infatti in questa casa sta sul divano poi bullying e gioca a bullying ovviamente e poi guarda la televisione e vai vabbè via non lo faccio ma che cavolo è la pietra in box e la pietra di tutto quelle stesse cose ogni stanza che faccio siamo un telefono ah ma qua dobbiamo vedere allora qui abbiamo il telefono 1 hey just a seco check uh amanda hug and kiss hey i'm looking for amanda hug and kiss why can't i find amanda hug and kiss maybe your standards are too high you little s.o.p if i ever find out who you are i'm gonna shove a sausage down your throat and stick starving dogs in your butt non ho capito un cazzo vabbè proviamo con il bronc col 2 claiming house uh yes i'm looking for a friend of mine last name jack first name hero uh hold on i'll check uh hugh jack no somebody check the men's room for a huge ass oh i'm huge ass non ti rispondo perchè non so che cazzo stai dicendo ma non ti rispondo sicuramente hello i'd like to speak to ms tinkle first name psps ivana ivana tinkle just a sec ivana tinkle ivana tinkle all right everybody put down your glasses ivana tinkle uno bye bye i'm ready to leave me to drink uh yeah hello is mike there last name roch hold on i'll check my crotch my crotch hey has anybody seen my crotch lately Ma è Crutch, ma è Crutch, ma è Crutch, ma lei cosa dice, cosa dice al Prankar 4, cosa lei cosa dice, ragazzi meglio che non andiamo, non so, è anche perso se potevo comporre un numero telefonico qua, vabbè, torniamo. Allora, io non ti devo dire, che non si può dire. Allora, allora, saluto questo Dan. Allora, saluto, 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 saluto. Allora, saluto, 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 saluto. A presto, saluto, 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 saluto. Vabbè, ragazzi, mi sa che non lo apro…" va bene ragazzi questo è il video di oggi mettete like le pitture il video che ho fatto oggi mi raccomando iscrivetevi al canale e poi io lo porto in casa come ho fatto in serie di gel di da parte ciao